ciao ragazzi team commando qua viking oggi parliamo di un argomento direi molto importante che io ritengo che vada trattato seriamente e quindi dobbiamo prenderci un video opposta solo per parlare di questo argomento allora mi avete scritto in tanti soprattutto nel video dove parlavo del mister olimpia del concorso degli olimpians di quella che è sostanzialmente la storia del culturismo professionistico dicendomi eh ma loro usano il doping allora usiamo questo video per cercare di parlare nella maniera più seria possibile di questo argomento voglio fare una premessa ovviamente il doping è una pratica che è dannosa per la salute è illegale può portare a problemi fisici non si può parlare bene di un fenomeno che ovviamente è dannoso per la salute è illegale quindi è ovvio che io andrò ad affrontare l'argomento facendovi vedere le criticità che ne esistono sotto però voglio anche farvi vedere come l'argomento sia troppo spesso banalizzato perché se noi volessimo essere tecnici e andare a sviscerare quello che è il tabellino della vada ovvero della world anti doping agency andremo a vedere che per esempio anche la caffeina costituisce doping oltre certe quantità e tra l'altro sarebbe anche interessante discutere se queste quantità di caffeina molto alte siano effettivamente propedeutiche a una prestazione sportiva o se in realtà vado semplicemente ad aumentare gli effetti collaterali come l'attacchi cardia e magari l'ansia quindi indirizzo del video principalmente volto ad analizzare il fenomeno in maniera seria prima di tutto dobbiamo dire che il doping è una pratica che sostanzialmente consiste nell'alterazione di prestazione fisica attraverso quelli che possono essere mezzi esterni a quelli del corpo autoemotrasfusioni per esempio in passato andavano soprattutto i frequentatori di sport aerobici in alta montagna dove praticamente si andava a produrre più emoglobina più eritropoiettina e di conseguenza si facevano autoemotrasfusioni giorni prima della gara il doping può essere dormire in una camera iperbarica il doping può essere assumere dei farmaci come possono essere degli androgeni come possono essere dell'eritropoiettina ripeto per gli sport aerobici di resistenza farmaci che vanno ad agire sui recettori beta 2 adrenergici poi come per esempio quelli che vengono utilizzati per l'asma e questi secondo la vada possono dare un vantaggio in quella che è la prestazione sportiva quindi io direi di partire dal principio e arrivare in fondo il culturismo professionistico voi qui vi faccio una piccola critica a voi viewer perché penso che siate persone intelligenti avete subito puntato lì dicendomi eh ma quelli si dopano io mi sento di rispondere grazie al cavolo si vede è un ambito professionistico dove persone estremamente dotate non solo dal punto di vista genetico propriamente detto quindi composizione di fibre inserzioni muscolari connessioni neurali con le placche neuromotorie ma anche di capacità di allenamento capacità di resistenza al dolore capacità di stare a dieta capacità di allenarsi più volte al giorno di non mollare la dieta durante il corso dell'anno e attenzione ragazzi perché la dieta che fate voi non è la dieta di un culturista la dieta di un culturista è una cosa veramente estrema e ripetitiva ed è difficilissimo stare a dieta 365 giorni all'anno quindi è troppo facile spararla sul doping eh ma quelli sono così perché si dopano sono dei fenomeni sono persone che hanno un potenziale di allenamento e genetico che è inimmaginabile per una persona media e io sfido chiunque a prendere il doppio delle sostanze che prendo un mister olimpia per diventare la metà di lui non lo diventerà mai bisogna essere sinceri quindi è inutile parlare per sentito dire le cose stanno in questa maniera qui io qui mi sento anche di spezzare una lancia a favore del culturismo perché il culturismo è uno sport dove la componente estetica è quella principale e il doping risalta subito come se negli altri sport il doping non esistesse e questo è un discorso da persone ipocrite con la coda di paglia e qui sul team commando spero che siamo tutti persone sincere dotate di senno e che non ci perdiamo in queste banalità assurde il doping esiste nel ciclismo ciclisti amatori che fanno il giretto della domenica che sono pieni di qualsiasi cosa tra stimolatori, adrenergici, ormoni come l'eritropoiettina eccetera, androgeni eccetera 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 quindi ritengo veramente stupido indicare uno per il fatto che sia un mister Olimpia per il fatto che sia un professionista del culturismo semplicemente sul fatto che si dopi è riduttivo, è sminuente della sua capacità atletica e se non volete seguire il culturismo siete liberi di non farlo il culturismo che si voglia considerare uno sport o meno chiamiamola una competizione e se a voi piace, interessa il mondo del culturismo interessano i parametri di giudizio le loro forme, la loro linea lo sport che c'è dietro, i concorsi allora seguitelo se voi dovete seguire il culturismo per dire quello si dopa, quello si dopa, quello si dopa allora guardate un'altra cosa no? perché state perdendo tempo e poi vi ripeto siete sicuri che il calcio sia tutto pulito? siete sicuri che il nuoto sia tutto pulito? siete sicuri che il lancio del peso sia tutto pulito? non penso di dover essere io a ricordare i vari record anche olimpionici quindi stiamo parlando di sport ufficiali propriamente detti, non di culturismo per esempio del lancio del peso degli anni 80 dove le donne si facevano la barba prima di andare in pedana a gettare il peso tutti i vari record che sono stati proprio cancellati per l'uso di sostanze dopanti oppure nei 100 metri quella che è la corsa siamo sicuri che Bolt sia pulito? io penso di sì perché non ho motivo di pensare il contrario perché dovrei pensare male di un atleta però stiamo comunque parlando di prestazioni al limite del superumano ecco diciamo che siamo proprio a livelli di massima espressione di quella che è la potenza della macchina umana e quindi sempre siamo su un filo del rasoio dove anche stabilire quello che doping non lo è non è facile per esempio la tennista, la russa, la Sharapova è risultato che per anni prendesse un farmaco se non sbaglio per il diabete e le sono stati tolti anche parecchi titoli nel suo palmarès di conseguenza prima la Sharapova non era adoppata e dopo l'ha diventata è complicato per questo motivo la mia opinione in merito è quella che bisogna sempre tenere il cervello attaccato capire che il mondo dello sport è un mondo dove girano parecchi soldi ovviamente ogni volta che girano dei soldi girano degli interessi dove gli atleti sono spinti al limite delle prestazioni della macchina umana e di conseguenza siano proprio portati anche dalle società sportive dal mondo competitivo che ne consegue all'uso di queste cose che sicuramente è una pratica dannosa per la salute sbagliata ma ci sono ambienti dove tutti fanno uso di questo tipo di sostanze e viene sempre beccato l'unico capo espiatorio che deve pagare per tutti come è successo anche con il caso Schwarzer direi no? che poi lui abbia sbagliato questo è indubbio però io sostanzialmente non mi sento di fare la morale a nessuno non mi sento di fare la morale a nessuno soprattutto per quanto riguarda il bodybuilding poiché chi sono io per giudicare la scelta personale di una persona che vuole fare un determinato percorso di tipo estetico lui non mi fa del male sostanzialmente a me non usa i miei soldi per fare determinati tipi di pratiche e è quello che si definisce solitamente no? doping estetico della sua salute della sua pelle e può fare quello che vuole io quando vedo uno grosso uno sostanzialmente muscoloso non è il primo pensiero che faccio non è ah quello si dopa io mi disinteresso totalmente del fatto che lui usa certi tipi di sostanze o meno un'altra considerazione che mi sento di fare è quella l'alcol anche quella è considerata una sostanza psicotropa sostanzialmente no? il fumo attenzione non sto mettendo tutto insieme sto però cercando di farvi ragionare il fumo sui pacchetti c'è scritto il fumo uccide io non vado a fare la morale a nessuno su chi fuma su chi beve sono a fare il loro è la loro pelle ognuno secondo me è libero fino nella maniera in cui non nuoce la salute degli altri di fare quello che gli pare se uno vuole fumare io Viking non sono nessuno per dirgli di smettere gli posso consigliare perché per la sua salute non va bene però pretendere sempre di essere questi giudici questi portatori dell'etica suprema dove si spiega agli altri quello che è giusto perché secondo me è un discorso molto 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 banale e poco incisivo c'è scritto sui pacchetti il fumo uccide attenzione ragazzi anche il doping uccide è vero ma anche il fumo allora perché fumate giudicare gli altri è sempre più facile di giudicare noi stessi e quindi pensiamoci bene anche a quando un atleta magari viene scoperto perché viene utilizzato del doping anche a livello olimpionico subito tutti i mass media gli danno addosso perde i contratti di sponsorizzazione quando magari tutti i suoi compagni di batteria stanno utilizzando del doping ma viene beccato solo lui sostanzialmente lì si tratta di giocare ad armi pari tra persone che utilizzano magari determinati tipi di sostanze quindi la questione diventa ancora più complicata ancora più di doppia faccia e ancora più difficile da trattare e su questo discorso mi sento di aggiungere il fatto che la soggettività gioca un ruolo fondamentale penso che magari tutti noi abbiamo avuto l'occasione di conoscere nonni persone zii parenti persone di paese che magari a cento oppure a 90 anni fumassero pacchetti di sigaretta al giorno e stessero benissimo e magari l'amico che purtroppo non ha mai fumato una sigaretta in vita sua si ritrovi con un tumore ai polmoni quindi c'è una componente soggettiva che è inconoscibile è incalcolabile ed è imperante su questo tipo di argomenti magari una persona che fuma tutta la vita non avrà niente una persona che non ha mai fumato una sigaretta avrà la sfortuna di incorrere in un tumore un polmone questo purtroppo è la casualità e questo succede anche nel doping il doping può provocare insufficienze renali tumori al fegato tumore alla prostata eccetera eccetera può provocare infarti ma sostanzialmente non c'è una correlazione così diretta come si pensa con le droghe tradizionali perché di questo che si sta parlando sostanzialmente l'overdose di doping non esiste non ci sono casi riportati in letteratura di persone che hanno utilizzato magari un farmaco androgeno in quantità esagerate poi sono morte anche perché il farmaco che cos'è deriva dal greco pharmakon che è insieme antidoto e veleno ovviamente è la quantità che la rende veleno noi tra virgolette siamo pieni di testosterone perché lo produciamo naturalmente nei nostri testicoli nelle nostre gonadi è la quantità quindi andare a somministrare una quantità extra fisiologica che va a costituire di doping ma comunque è una sostanza biosimile mentre sostanze totalmente avulse dal corpo come per esempio possono essere la cocaina l'eroina questo tipo di droghe pesanti sono una cosa totalmente diversa e non si può fare confusione tra quello che può essere una sostanza biosimile presa in quantità superiori al fisiologico rispetto a una droga pesante quindi mi raccomando ragazzi anche qui stiamo trattando di ambiti pesantemente diversi un altro discorso che ritengo sia molto importante da trattare è quello riguardante l'uguaglianza noi siamo stati abituati a scuola a pensare che siamo tutti uguali dobbiamo essere tutti uguali tutti dobbiamo promuovere il principio di uguaglianza e questa secondo me è una stupidaggine pazzesca noi siamo tutti diversi siamo tutti diseguali siamo tutti soggetti unici con un'unica espressione genica con un unico dna con un'unica impronta digitale con un unico profilo fisiologico ormonale con degli unici diciamo dati somatici come possono essere composizione di fibre altezza peso connessioni neurali inserzioni muscolari lunghezza delle leve osse eccetera eccetera quindi dire che quando si compete in una competizione sportiva senza doping siamo tutti uguali anche questa è una stupidaggine pazzesca perché ci sarà sempre tra queste persone in batteria quello che avrà magari più fibre bianche nei 100 metri sarà più avvantaggiato quello che magari avrà la leva migliore nel sollevamento pesi quello che avrà il tipo di connessioni migliori per attivare le placche neuromotorie quindi che noi nasciamo tutti uguali e siamo tutti uguali e se non ci doppiamo competiamo tutti allo stesso livello è una stupidaggine pazzesca che poi ovviamente uno con l'allenamento possa andare oltre quelle che sono le proprie sostanzialmente limiti dati da quella che è la propria natura e con l'impegno possa migliorare e andare oltre a quello che è una limitazione che potrebbe essere data dal fatto di non provare mai a superare il limite di non provare mai a andare oltre è sicuramente vero perché l'allenamento è imperante in questo determinato tipo di ambito l'epigenetica costituisce una quantità grandissima di lavoro che non possiamo fare per migliorare ma sostanzialmente noi non siamo tutti uguali bene ragazzi allora per concludere sicuramente le pratiche dopanti sono una cosa da cui dovete stare lontani però vi raccomando di utilizzare l'intelligenza perché nel mondo dello sport purtroppo sono pratiche che esistono e il fatto di puntare il dito insistentemente con aria saccente e dire ah il mister olimpio è dopato secondo me non vi farà diventare migliori vi farà diventare migliori allenarvi magari stare lontani da determinati tipi di ambiti allenarvi duramente ma smetterla di giudicare gli altri perché a giudicare gli altri sprecate tempo che potreste investire in voi stessi quindi via il doping statene lontani sono pratiche che non vanno bene bisogna stare focalizzati sull'allenamento la nutrizione il riposo il duro lavoro e mi raccomando ragazzi ripeto sempre la testa sulle spalle bene per concludere vi chiedo di mettere un like al video di condividere il video questa non è una pretesa diciamo da persone che vogliono diventare famosi sostanzialmente noi tutti lavoriamo abbiamo la nostra vita private però noi permettiamo di divulgare conoscenze quelle che sono le nostre opinioni che poi non è detto che siano la verità assoluta però comunque è qualcosa che noi diamo a voi in maniera totalmente gratuita in maniera appassionata direi perché questo noi lo stiamo facendo per pura passione e se ci aiutate a crescere e a condividere il video e a far conoscere Team Commando anche alle altre persone sicuramente ci farete molto piacere bene ragazzi iscrivetevi al canale like al video un saluto ancora forza Team Commando come sempre qua al vichingo ciao ragazzi ciao ciao